Video Express è una suite di creazione video basata sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di trasformare testi e immagini in video straordinari con funzionalità come la conversione da testo a voce, la creazione di messaggi tramite intelligenza artificiale e la creazione di personaggi coerenti. Il software sfrutta una tecnologia di intelligenza artificiale avanzata per trasformare le descrizioni testuali e le immagini degli utenti in videoclip dinamici, eliminando la necessità di costosi animatori o di filmati privi di copyright. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di creare fotoparlanti, trasformando immagini statiche in coinvolgenti videoclip con dialoghi realistici e sincronizzazione labiale in varie lingue. La funzionalità di coerenza dei personaggi garantisce che i personaggi generati dall'intelligenza artificiale rimangano gli stessi in più prompt, consentendo agli utenti di creare storie coerenti e di mantenere l'identità del marchio. L'inpainting video consente la manipolazione di elementi all'interno di un video, trasformando oggetti o personaggi con semplici suggerimenti, migliorando la narrazione e le possibilità creative. Il pennello con movimento multidirezionale consente agli utenti di dare vita a immagini statiche con animazioni dinamiche, consentendo un controllo preciso su movimento e direzione. La rimozione degli oggetti video consente di eliminare istantaneamente gli oggetti dai video con un semplice click, creando modifiche fluide e consentendo la manipolazione dello sfondo. Video Express offre una suite completa di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la creazione di video, tra cui funzionalità di modifica, rimozione dello sfondo, effetti sonori e funzionalità di conversione da testo a voce. Il tutto accessibile ha un prezzo una tantum. Video Express is an AI-powered video creation suite that allows users to transform text prompts and images into stunning videos with features like text-to-speech, AI prompt writer, and consistent character creation. The software utilizes advanced AI technology to turn user text descriptions and images into dynamic video clips, eliminating the need for expensive animators or copyright-free footage. One of the standout features is the ability to create talking photos, transforming static images into engaging video clips with realistic speech and lip-sync in various languages. The consistent character feature ensures that AI-generated characters remain the same across multiple prompts, allowing users to create cohesive stories and maintain brand identity. Video inpainting allows for manipulation of elements within a video, transforming objects or characters with simple prompts, enhancing storytelling and creative possibilities. The multi-direction motion brush empowers users to bring static images to life with dynamic animations, allowing for precise control over movement and direction. Video object removal allows for the instant deletion of objects from videos with a simple click, creating seamless edits and enabling background manipulation. Video Express offers a comprehensive suite of AI-powered tools for video creation. including editing features, background removal, sound effects, and text-to-speech capabilities, all accessible at a one-time price.